Musica Prima edizione del nostro telegiornale, buongiorno e bentrovati. Bimba di un anno ricoverata al di Cristina di Palermo per aver ingerito droga. Nello stesso nosocomio, arrivata senza vita una neonata, forse un caso di morte in culla. Sentiamo Luca Licata. E' giunta all'ospedale dei bambini in gravi condizioni. I medici, dopo avere soccorso la piccola di un anno, hanno intuito si trattasse di overdose. La conferma è arrivata con l'esito degli esami. La bimba è risultata positiva ai cannabinoidi. È l'ennesimo episodio di questo genere a Palermo. Gli ultimi due casi si sono verificati lo scorso febbraio, quando, nell'arco di sole 72 ore, due neonati furono ricoverati d'urgenza all'ospedale pediatrico dopo aver ingerito cannabis. L'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di bambini molto piccoli, il più delle volte neonati, non è dunque una novità nel capoluogo. E' lunga, infatti, l'escalation di casi di overdose registrati da un anno a questa parte, sia in periferia, sia in centro città. Le condizioni della bambina di un anno, ricoverata 24 ore fa, adesso sono migliorate. Quando è arrivata al di Cristina, era in stato soporifero. Aveva le convulsioni. Accertata l'assunzione di droghe, scattato il protocollo. I sanitari hanno avvisato le forze dell'ordine e la magistratura. E' stata disposta la perquisizione a casa dei genitori, come accade in questi casi. La procura per i minorenni ha affidato la custodia temporanea della bambina al direttore sanitario dell'ospedale. Adesso si indaga per capire con esattezza cosa sia accaduto, accertare eventuali responsabilità dei genitori. Un'ipotesi è che la bambina possa avere inalato la sostanza stupefacente. Intanto, sempre all'ospedale di Cristina, nelle scorse ore i medici hanno affrontato un'altra emergenza, stavolta però culminata in tragedia. Una neonata di 15 anni è stata portata in auto dai genitori al pronto soccorso. Il tragitto è stata una corsa contro il tempo. Giunti in ospedale, il cuore della piccola aveva già smesso di battere. Il decesso probabilmente è avvenuto in auto. Anche qui la procura dei minorenni, informata del fatto, sta cercando di ricostruire la vicenda, capire i motivi. Un'ipotesi molto probabile è che possa trattarsi di un caso di morte in culla. Circa 30 impiegati del comune di Favara, nell'Agrigentino, sono indagati per astensionismo dal lavoro. Il sostituto procuratore, Gloria Andreoli, ha fatto notificare loro un avviso di proroga delle indagini preliminari dell'inchiesta. I reati ipotizzati sono falso ideologico e truffa gravata. Il magistrato ha disposto anche l'acquisizione di documenti in municipio. Secondo l'accusa, ci sarebbero state false timbrature per far risultare presenti i dipendenti quando in realtà erano assenti. Indagini sono in corso anche su certificati medici per giustificare l'assenza al lavoro. L'inchiesta è stata avviata nel 2021. Collaboratore del presidente dell'ARS, Galvagno, sorpreso ad acquistare cocaina, è stato già allontanato dallo staff del deputato. La notizia ha pochi giorni dal test antidroga sui parlamentari, su proposta di Lavardera. È stato sorpreso mentre acquistava della cocaina Giancarlo Miorisi, burocrate dell'Assemblea regionale siciliana, con un ruolo di prestigio perché a capo della segreteria tecnica della Presidenza. La vicenda ha destato scandalo. Le mura del Parlamento siciliano, in questi giorni semideserto, per via delle imminenti festività pasquali, sono tremate. Non appena il presidente dell'ARS, Galvagno, appresa e verificata la notizia, ha riferito ieri di volerlo fuori dal suo staff con effetto immediato. Un allontanamento che suona come un licenziamento in tronco. Partirà un provvedimento disciplinare. Intanto però Galvagno è stato perentorio nel condannare il comportamento tenuto dal membro del suo staff. D'altronde è stato lo stesso presidente dell'ARS a dare solamente la scorsa settimana il buon esempio, quando per primo seduto davanti l'infermeria dell'ARS si è fatto tagliare una sciocca di capelli per il test antidroga aperto a titolo volontario a tutti i deputati del Parlamento. Ad esprimersi oggi, su quanto accaduto, anche il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Ismaele Lavardera, promotore di quel test il quale oggi rilancia. L'esame tossicologico va effettuato da tutti coloro che fanno politica. Bisogna dare l'esempio. Apprendo con scomento la notizia che riguarda l'ormai ex caposegreteria del presidente Galvagno, sorpreso mentre acquistava della droga. Applaudo all'iniziativa del presidente Galvagno che appena ha saputo la notizia che ha immediatamente licenziato questo soggetto e dico che la politica ovviamente, davanti a case di questo tipo, come ha fatto bene Galvagno, debba prendere posizione immediatamente. Questa notizia rientra dopo l'iniziativa che ho promosso al Parlamento siciliano praticamente una settimana fa nell'effettuare questo test antidroga a tutti i deputati. Credo che sia sacrosanto che tutti i deputati possano sottoporsi al test antidroga, ma non solo loro. Ho proposto un disegno di legge dove ovviamente ho chiesto ai sindaci, ai consiglieri comunali, agli assessori di sottoporsi una volta l'anno a questo test. La politica quando parla di lotta alle droghe deve dare l'esempio in prima persona. Non possiamo permetterci di essere al di sopra della legge stessa. Noi che la facciamo la legge, noi che siamo legislatori, dobbiamo dare l'esempio prima di ogni altra cosa. Miorisi è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina. Dalla polizia a cedergli la sostanza dietro il corrispettivo di 300 euro sarebbe stato il noto ristoratore di Palermo Mario Di Ferro arrestato con l'accusa di spaccio e droga. Adesso lavorativamente parlando per l'ex capo della segreteria tecnica si prospettano guai. Miorisi infatti non risulta indagato, hanno fatto sapere i suoi legali. È stato identificato e denunciato l'autore dell'incendio appiccato lo scorso 26 marzo nella chiesa di San Gaetano a Portopalo di Capopassero nel Siracusano. Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di risalire all'autore. Un 28enne originario di Noto ma residente a Portopalo non nuovo a gesti del genere deve rispondere di incendio ma quanto di cui si sarebbe reso responsabile non avrebbe secondo i militari dell'arma motivazioni religiose ma sarebbe stato mosso dal desiderio, ci legge in una nota, di vedere qualcosa ardere reso incontenibile dall'occasione creata dalle porte aperte della chiesa e dalla presenza di lumini già accesi al suo interno. Spiegano appunto dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Cambiamo argomento, nuova vittoria legale per la Dolphin, l'azienda di riposto che produce i polaretti, le imitazioni dei famosi ghiaccioli senza stecco dovranno essere ritirate dal mercato. Un episodio analogo già nel 2017. La sezione imprese del Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di Dolphin contro Cereali Italia Dolci Preziosi, azienda questa pugliese competitor del colosso siciliano nel settore dei prodotti di cioccolato per le ricorrenze come Pasqua e Natale accusata di aver messo sul mercato dei ghiaccioli da gelare gli Ice Pops, un prodotto che nel packaging in vaschetta nell'immagine esterna evoca in maniera assai evidente le confezioni dei polaretti. Corretto come dice lei, giustamente una nuova vittoria perché come ha sottolineato il dottore Finocchiaro, la famiglia Finocchiaro in particolare che ha analizzato questo prodotto è stato l'ennesimo tentativo di imitazione, tanto che a parte la causa che abbiamo vinto qualche giorno fa con Cereali e Dolci Preziosi che hanno realizzato l'ice pop, un pronto da congelare che è per dimensioni del packaging, colori, sfondo del ghiaccio e la vaschetta colorabile ha proprio del tutto copiato il successo dei celebri polaretti. L'ennesimo tentativo di imitazione che come ben sappiamo nel 2017 ha vinto la Dolphin la causa anche contro Valcor, Valcor che ha fatto un prodotto molto similare a Dolphin e è stata costretta al ritiro immediato dal commercio del prodotto stesso. Ma c'è di più, secondo il giudice, Cereali Italia Dolci Preziosi si sarebbe anche appropriata del successo di Dolphin e della rinomanza del prodotto tutto siciliano. In difesa dei polaretti che da 30 anni sono stati inventati, creati da Dolphin e che sono entrati nell'immaginario e nel linguaggio comune di tutti i bambini con mister Polaretto con il suo mondo ghiacciato. Politica non c'è ancora all'accordo unitario nel centrodestra per il candidato sindaco di Catania Pippo Arcidiacono. Conferma la sua corsa solitaria a primo cittadino. È una questione di coerenza, dice ai nostri microfoni. Intanto nelle prossime ore Valeria Sudano potrebbe ritirare la sua corsa. Sentiamo Francesco La Rosa. Proseguono le grandi manovre all'interno della centrodestra per una candidatura unitaria in vista delle elezioni amministrative di Catania e l'elezione del primo cittadino. Nelle ultime ore il nome che sembra aver messo tutti d'accordo è quello dell'avvocato Enrico Trantino, già componente della giunta pogliese, che sembra possa essere il punto di equilibrio definitivo. Potrebbero così tramontare le ipotesi legate a Ruggero Razza e Sergio Parisi. Ma l'ipotesi Trantino si fa strada come la soluzione più gradita a tutti. Resta da sciogliere il nodo legato a Valeria Sudano proposta dalla Lega, che continua a rivendicare la propria scelta. Un'eventuale promozione al sottosegretario della stessa Sudano potrebbe però mettere tutti d'accordo, anche se tra i candidati alla poltrona più importante di Palazzo degli Elefanti c'è ancora chi non vuole rinunciare. Tra questi Pippo Arcidiacono, più che mai convinto di andare avanti per la sua strada. Sono in corsa, come ho detto sin dall'inizio, anche perché, ripeto, il mio partito ha fatto scelte che non ha condiviso e ha semplicemente dai tavoli romani sceso un nome rispettabilissimo. Sono molto amico e stimo, molto, ripeto, Rico Trantino, ma nessuno mi ha spiegato perché io no. Non so, forse non ho gli occhi azzurri. Probabilmente mi mancherà qualcosa, ma se non mi viene detto io non capisco perché. Poi non posso tradire assolutamente i tanti amici che mi seguono, che mi invitano ad andare avanti. Ho una lista che calerò alle prossime, forse più di una e non posso assolutamente venire meno a una parola data. Io sono fatto così, nasco in un quartiere popolare nella quale la parola data ha un senso e un significato. E poi, voglio dirlo con un'estima certezza, sono catanese. Mi piacerebbe vedere una città che finalmente decolli, ovviamente non mi ritiro e chiaramente forse sarebbe molto meglio parlare di cosa vogliamo di questa città nel prossimo quinquennio. Sentire la città, cosa vuole e poi dopo mettere in campo quello che si ritiene il candidato che la città vuole, ritengo che sia la cosa che assolutamente dovrebbe essere fatta e doveva essere fatta. Bene, io vado avanti, poi se avrò fallito nel mio progetto, pazienza, vuol dire che avrò sbagliato tutto. Tanti partiti, posso dirlo, non dico tanti per esagerare, diciamo alcuni partiti che sono pronti a dare le loro liste perché io possa procedere anche insieme a loro in una battaglia che viene dal popolo, che nasce dalla base ed è questa credo la cosa più importante che io possa avere oggi avuto come risposta. Parliamo adesso della rivalutazione, della riqualificazione del patrimonio comunale di Valverde in corso, la ristrutturazione del grande anfiteatro con annessa sala museale presente nella piazza centrale. Sentiamo ancora la rosa. Il patrimonio immobiliare della comune di Valverde ha attenzionato e migliorato negli ultimi anni grazie all'azione concreta portata avanti dall'attuale amministrazione. interventi sono stati fatti sulle strutture sportive come il campo da calcio e il campo da hockey ma anche in riferimento alla manutenzione degli edifici scolastici. Un'azione sinergica ancora in corso d'opera con obiettivi precisi da raggiungere nel breve. Beh sicuramente è stato rivalutato perché in questi cinque anni abbiamo optato sia per le opzioni del PNR ma anche con dei bandi particolari per cui abbiamo soffrito tanti finanziamenti e stiamo cercando di fare dei lavori. Abbiamo completato le scuole di Sant'Anna sia le scuole elementari che la scuola dell'infanzia. Abbiamo rifatto la scuola dell'infanzia anche qua a Valverde e ora stiamo procedendo a rifare il teatro che dal 1985 era stato fermato. Abbiamo rinnovato il patrimonio cimiteriale che si era un po' bloccato subito dopo l'appalto che è stato dato nel 2013 sempre da una vecchia amministrazione e ora stiamo procedendo anche con il risanamento ambientale e con la raccolta di tutte le acque che hanno provocato nel 2015 un disastro ambientale qua nella piazza. Attenzione anche per le strutture sportive per esempio il campo di hockey. Sì il campo di hockey è già stato riqualificato quando ci siamo incitati nel 2018 perché l'abbiamo trovato quasi distrutto e abbandonato con una squadra che non aveva più nessuna risorsa per poter portare avanti dei campionati. Abbiamo fatto dei lavori con del bilancio comunale per circa 70 mila euro. Abbiamo riportato la squadra sia la femminile che la maschile nelle massime serie C significa in serie A e oggi stiamo procedendo. Abbiamo un progetto di 700 mila euro per la stessa riqualificazione che fa parte di una graduatoria regionale. Mentre per quanto riguarda l'altro patrimonio sportivo abbiamo il campo di calcio dove abbiamo già acquisito un finanziamento col PNR di circa 2 milioni e 600 mila euro insieme al comune di Acibon Accorso e San Gregorio e l'altro patrimonio è quello della zona Peppe dove abbiamo lasciato un investimento con i finanziamenti GESCAL del 2013 di circa 4 miliardi di 4 milioni di euro e lo stiamo rifinanziando perché è stato distrutto nell'epoca che noi non amministravamo più dal 2013 al 2018 e quindi investiremo un altro milione per fare in modo che tutte queste attività sportive possano essere ridate alla cittadinanza. Cosa c'è adesso in prospettiva? In prospettiva aspettiamo subito questi qua della strada per fare in modo che mettiamo in sicurezza tutto il patrimonio e poi anche con i fondi PUA stiamo cercando di rimettere in sicurezza la piazza ma in modo particolare teniamo che possiamo completare in primo luogo questa sala multiuso del teatro che è abbandonata dal 1980. Voltiamo ancora una volta a pagina. Oggi venerdì santo, antivigilia di Pasqua. Qua una festa da ricordare per il numero di arrivi per il sistema aeroportuale di Catania è comiso forte impennata di transiti malgrado il caro voli. Mario Grasso. È una settimana davvero calda per l'aeroporto di Catania. Cresce infatti il numero dei passeggeri che nella settimana compresa tra mercoledì scorso e martedì 11 aprile vedrà circa 230.000 passeggeri transitare dall'aerostazione di Fontana Rossa. Di questi i nazionali saranno 148.189, mentre quelli internazionali poco meno di 82.000. Insomma rispetto alla 2022 la crescita del numero dei passeggeri si attesta a Fontana Rossa ad un più 6,38%, un trend che è dunque in aumento anche relativamente alla 2019, cioè l'anno prepandemico. Nell'attesa della domenica di Pasqua, che segnerà circa 40.000 presenze tra arrivi e partenze, sono tanti coloro i quali tornano in Sicilia per riabbracciare la famiglia e i propri cari durante le festività pasquali, ma sono anche tantissimi i turisti, soprattutto stranieri. E il caro voli pesa. Perché la Sicilia allora? Perché è la mia terra d'origine. Quindi si rientra? Sì. Siete, ma il caro voli esiste davvero? Eh, abbastanza, soprattutto alcune compagnie, però adesso giocano anche sul fatto che non ti fanno fare il check-in online e poi lo fai all'aeroporto e quindi ti chiedono quelle 45-40 euro, esempio. Rientri, rientri. Sì, la tradizione bisogna rispettarla. Ma è vero questo caro voli, il caro voli che insomma sta creando tanti problemi? Sì, non si capisce il motivo, cioè il motivo si capisce, però è ancora una cosa un po' indegna, visto che comunque ci sono tantissime persone che ogni anno vogliono scendere nel proprio paese, anche con passare la vasca con la propria famiglia, però con questi cari voli a volte alcuni non riescono a farlo. Relativamente al caro voli, gli aeroporti non ci guadagnano nulla? No, in termini di guadagno no, naturalmente più alto il numero dei passeggeri, più l'aeroporto ha interesse che ce ne siano e noi quello che abbiamo fatto e che abbiamo continuato a fare è cercare di aumentare la concorrenza, che è quella che comunque consente, come capita, di avere una migliore offerta a prezzi più vantaggiosi. È chiaro che in questi periodi dell'anno, se non si prenota con largo anticipo, prescindendo dal numero delle compagnie, si rischia di avere un salasso in termini economici. Capisco bene i ragionamenti che sta facendo e condivido il Presidente della Regione, è una battaglia che si fa per cercare di combattere un fenomeno che c'è, sensibilizzando ovviamente le compagnie. Mi auguro non ne arrivino sempre di più numerose e che ovviamente per i siciliani che viaggiano per l'Italia i prezzi siano diversi. Funzione per Pasqua e in proiezione anche estiva. Dunque il sistema aeroportuale Catania-Comiso? Sì, io credo che i dati dall'inizio anno siano sensazionali, che quindi siano persino superiori a quelle che erano le nostre aspettative e che comunque erano ottimistiche. È molto buono e questo significa la Sicilia in grande spolvero, in gran salute e che naturalmente si sa la Pasqua è l'inizio di quella cosiddetta alta stagione che quindi lascia sperare che ci siano ovviamente numeri molto importanti che possano consentire grandi flussi di turisti, visitatori, viaggiatori in Sicilia e ovviamente altrettanti che possono viaggiare per il resto del mondo dalla Sicilia. Presepe Pasquale allestito nei locali della Basilica di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena, rievoca la passione di Cristo ed invita alla riflessione su guerra e immigrazione. Salvo Couturi. Il presepe Pasquale è predisposto per il secondo anno consecutivo nei locali parrocchiali dai ragazzi dell'Azione Cattolica ad Aci San Filippo, una felice intuizione nel rievocare la passione di Cristo nell'allestimento presepale, curato in ogni particolare nella ricostruzione delle tredici stazioni, la condanna, la flagellazione, la crocifissione, la resurrezione e l'ascensione. Per federe di tutto il mondo, uno dei misteri centrali del cristianesimo, il martirio di Gesù invita la riflessione e l'attualità con le guerre che flagellano alcune regioni del mondo, il più noto mediaticamente, il conflitto russo-ucraino e l'odissea dei migranti non a caso nella ricostruzione scenica del Monte Calvario, è stata collocata una barca, simbolo delle traversate dei popoli in fuga dalle castie e miserie, in cerca di un futuro migliore, infranto dai naufragi in mare in cui hanno perso la vita migliaia di persone. Il presepe Pasquale, realizzato sul modello di quello legato alla tradizione natalizia, resterà aperto a pubblico oggi e nella giornata di domani e può essere visitato anche su prenotazione. La composizione artistica, ricca di particolari, ricostruisce le fasi saliente della morte di Gesù Cristo, non solo nella raffigurazione di statuine realizzate tenendo fede alla ricostruzione storica, ma anche il gioco di luci e la scelta dei materiali utilizzati nell'assemblaggio della rievocazione che è, allo stesso tempo, momento di raccoglimento, riflessione e speranza. Così il direttore dell'ufficio liturgico della Diocesi 10 Reale, parroco della Basilica Pontificia 10 San Filippo di Roberto Strano, assistito dal vice parroco, Don Arturo Grasso. Nel secondo anno che i ragazzi dell'azione cattolica realizzano questa struttura dove si ripercorre l'itinerario della passione, proprio partendo dall'ultima cena, giungendo al pretorio di Pilato, al Getsemani e poi tutta la via della croce, fino alla crocifissione, la sepoltura e la ressurrezione. Ecco, quest'anno, come si evince proprio da quella barca posta sul Calvario, si è voluto ricordare il dramma di tanti migranti, l'ultima, l'esperienza dolorosissima di Cutro, proprio per indicare che la passione non è un residuato archeologico, non è una storia del passato, è qualcosa che si ripete e si realizza tutt'oggi. Perché laddove ogni persona soffre, laddove c'è la guerra, laddove c'è la fame, laddove c'è odio, rivalità, contrapposizione, lì si perpetua la passione di Cristo. Però così come per Cristo la passione non è stata l'ultima parola, perché l'ultima parola è la risurrezione e quindi è la vita, l'augurio di questo percorso che si può visitare qui fino a sabato mattina è proprio quello di giungere alla risurrezione, a quella vita nuova, a quella vita rinnovata che il Cristo ci dona con il mistero pasquale. Questo è il messaggio fondamentale che scaturisce da tutto questo e soprattutto è l'augurio che formuliamo a quanti vengono a visitarla e a quanti ci ascoltano. Restiamo sul pezzo, osare come le donne al sepolcro. Questo l'augurio di Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, in occasione della Santa Pasqua. No alla rassegnazione, no all'indifferenza, bisogna osare come usarono le donne al sepolcro il mattino di Pasqua. E questo è l'assenso del messaggio che l'Arcivescovo Metropolita di Catania, Luigi Renna, invia alla città, alla diogesi, in occasione della Pasqua del 2023. Osare è il verbo che sento sposarsi meglio, dice con gli auguri pasquali, mutuando le parole di una delle pagine bibliche che dice essere più belle, più incoraggianti, cioè quelle in cui si racconta che il mattino di Pasqua le donne che avevano seguito Gesù fino sotto la croce, sfidando il disprezzo e gli sguardi minacciosi delle guardie dei farisei, si recarono alle prime ore dell'alba alla sepolcro. Credettero, ebbero coraggio, osarono. Cristo risorge, anzi è risorto, però ha bisogno di uomini e donne che annuncino questa grande verità. Il messaggio di augurio è intitolato Osare come le donne il mattino di Pasqua. Andarono verso il sepolcro per ungere il corpo di Gesù, osarono vincere quel muro di indifferenza che si era creato attorno a Cristo e un muro di paura, osarono e trovarono che il Cristo le stava aspettando, perché Cristo ha osato prima di noi, avere fiducia dell'umanità, riempire l'umanità di perdono, di misericordia, di pace. La Pasqua 2023 è una Pasqua particolare per Catania che si prepara alle elezioni. Anche qui, dice il Vescovo, bisogna osare. Certo, bisogna osare perché la dimensione politica è una dimensione che non è aliena dalla nostra vita di fede. Anzi, la fede si manifesta in rettitudine di vita, anzitutto, in onestà nel nostro essere cittadini, nell'essere amministratori. E si dimostra anche con la responsabilità in scelte. Scelte che devono essere libere, non condizionate e che devono rispondere davvero a quello che la nostra coscienza ritiene che sia il meglio. Noi siamo semplicemente, ecco, una realtà che fa rete e che collabora, come ha sempre collaborato, con una grande attenzione a ciò che è proprio di Catania. Penso alla festa di Sant'Agata, che ha una dimensione civile rilevante, oltre che religiosa, ma con una grande attenzione soprattutto alle periferie di questa città, che sono grande. Non bisogna mai guardare agli ultimi come tali. È la sensazione che si ricava dalla via Crucis, che appunto Renna ha tenuto qualche giorno fa a San Berillo. È la via Crucis vera, perché le meditazioni non sono state scritte da un teologo, non sono state pensate a tavolino, ma chi l'ha composto, Franco, che conosciamo tutti come Franchino, una persona che, grazie anche a padre Gliozzo, è entrato con la sua vita, ma anche con la sua fede nel cuore di tante persone, ha dato voce a queste persone, ha raccolto le loro testimonianze, a volte davvero molto toccanti. Penso alla penultima stazione, quella di una donna che è stata abusata da bambino, da bambina, ha potuto raccontare agli altri qual è stata la sua croce. Allora le vie Crucis più vere sono quelle nelle quali veramente, possiamo dire, si inverte quello che accade nella stazione del Cireneo. Il Cinereo aiuta Gesù a portare la croce, ma in verità è sempre Gesù che aiuta a portare le nostre croci. E a San Berillo questo è evidente. Ho visto tanta fede e tanta fede incarnata nella vita. Parliamo adesso di un must per grandi e piccini di questa festa, le uova di Pasqua, domani degustazioni a Giarre. Le uova di cioccolato a Pasqua, tra i doni più graditi per adulti e piccini immancabili. Sulle tavole di queste feste da regalare e da regalarsi, tradizionali al latte bianco e fondente o arricchiti di frutta a guscio come nocciole e pistacchi. Sì, impreziositi da sorprese ricercate. Quest'anno le vendite in netta ripresa dopo il periodo buio del Covid ormai alle spalle. I bambini che invece guardano alla sorpresa apprezzano tanto le sorprese che appunto decidiamo ogni anno di mettere all'interno le nostre uova. Cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti dei bambini che apprezzano le nostre uova per questo. I bambini preferiscono il cioccolato al latte, gli adulti invece a cosa puntano? Allora, gli adulti puntano tanto anche al fondente ma va tanto adesso anche il cioccolato che abbiamo, quello al pistacchio con la granella all'esterno, le uova col tessuto siciliano, con all'interno le ceramiche di Caltagirone decorate a mano che sono molto apprezzate dagli adulti, quindi è un bel regalo anche da donare in vista appunto delle festività. Queste sono le uova più apprezzate dagli adulti. Hanno fatto, ecco, vi hanno fatto qualche richiesta di sorpresa da mettere all'interno, non so per qualche regalo in particolare? Nel nostro must appunto all'interno del nostro showroom, dedichiamo anche questa parte per chi vuole, diamo la possibilità di inserire all'interno delle nostre uova, ovviamente nel formato grande dal 1,2 kg fino al 12 kg, la sorpresa che ognuno porta e magari decide di donare un uovo più particolare. Ce ne svegli qualcuna? Questa possibilità. Dal gioiello al semplice fular, insomma, sono più dedicati al femminile, ecco, ma tanti anche per bambini. La zia che vuole donare l'uovo al nipotino appena nato, per cui sceglie anche l'uovo da 12 chini in cui mettere una sorpresa particolare all'interno. Uova di Pasqua da gustare sul posto e da scartare domani nella sede della Proloco di Giarre su piazza Monsignor Alessi. È tutto pronto per la quinta edizione di Fior di Cioccolato. Questa è la quinta edizione, ancora una volta per regalare un sorriso a tutti i bambini che ne faranno visita proprio nella nostra sala espositiva, daremo questo regalo a tant'amato dei bambini a poter coronare il suo giorno della festività di Pasqua con un bel uovo di cioccolato. C'è stata anche tanta disponibilità da parte di produttori di dolci e panifici del posto che si sono spesi appunto donando le cuddure con l'uovo. Sì, anche questa è una tradizione della Santa Pasqua, fare queste cuddure con l'uovo, ma poi arricchirle, sistemarle, se ne vedono qualcuno che sono qualcosa di eccezionale. La lavorazione del pane, del prodotto con la decorazione è qualcosa di eccezionale. Infatti abbiamo queste belle tavolate con i vari cuddure con l'uovo che hanno dato questo arricchimento alla sala. Parliamo adesso di noi, l'infarto del miocardio, come riconoscerlo in tempo, cure, terapie ed interventi. Se ne parlerà questa sera nella quinta puntata di Medicina e Innovazione, la rubrica dedicata alla salute e a cura del dottor Riccardo Castro e Daniela Cantarella per la regia di Paolo Coco, ospite in studio. Il dottor Sergio Monaco, dirigente medico di cardiologia dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Appuntamento dunque questa sera su Rai TV, canale 18 del Digitale Terrestre, alle 21.30, repiche domenica alle 21 e martedì alle 22.00. Ci fermiamo ora, c'è la pubblicità ma non abbiamo finito le eventuali ultimissime e le previsioni del tempo. Subito dopo vi aspetto. Nuovamente in studio, consueto sguardo alle previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domani. Sabato 8 aprile, il cielo sulla Sicilia sarà in prevalenza poco nuvoloso, i venti deboli, i mari calmi il Tirreno e lo Ionio, mosso il Mediterraneo. Le temperature oscilleranno nell'isola da 2 gradi a Enna a 20 a Siracusa, a Catania e nell'Interland, 10 gradi la minima, 19 la massima, le altre in grafica. Nessuna altra notizia per voi, termina qui questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo reitv.it ma anche sul nostro canale YouTube. Un nuovo appuntamento in diretta invece con l'informazione questa sera alle 19.45. A voi tutti grazie per averci seguito, buon pomeriggio. A voi tutti grazie per averci seguito, buon pomeriggio.